Danni per 29 milioni e mezzo di euro è la stima delle conseguenze provocate dalla violenta grandinata dello scorso 25 giugno che il Comune di Vittorio Veneto ha inviato alla Regione. Da Venezia era stata chiesta una prima ricognizione dei danni subiti da enti pubblici, imprese e privati cittadini e il conto, come si temeva, è molto salato. Ahimè abbiamo circa un milione e mezzo di danni al patrimonio pubblico e compresi i danni patiti dai privati e che ci sono stati comunicati siamo a quasi 30 milioni di euro purtroppo. E questo solo per quanto riguarda il territorio comunale di Vittorio Veneto, la grandine, chicchi grossi come palline da tennis, ha lambito anche i territori di Tarzo e Revine. Auto con i vetri sfondati, tegole come queste del tetto della caserma dei Carabinieri danneggiate, rivestimenti esterni degli edifici mitragliati, capannoni devastati, anche quello del primo cittadino. Risparmiata solo la zona sud ovest della città, in migliaia si sono rivolti al Comune che a sua volta ha avviato la procedura per chiedere lo stato di calamità. Le richieste che sono state recapitate e protocollate regolarmente in Comune sono di quasi 2500 domande fra cittadini privati e attività commerciali, industriali e artigianali. Speriamo che la Regione dopo questa prima ricognizione che evidenzia un danno patrimoniale ai cittadini e alla città di Vittorio Veneto rilevante possa concorrere a quelle che sono le spese che il privato e il pubblico dovrà sostenere. Contiamo sull'aiuto della Regione. Grazie a tutti.